Buongiorno e buon fine settimana da Sicilia 24, oggi sabato 5 novembre, siamo qui come tutte le mattine per la nostra consueta rassegna stampa, il nostro giro dei quotidiani, andiamo a vedere come di consueto le aperture, le anticipazioni stamane in prima pagina, andiamo quindi a scoprire insieme gli argomenti della giornata. Cominciamo subito, partiamo dal quotidiano la Sicilia, tanti stamattina gli argomenti in risalto, cominciamo dal maltempo, ecco scende la pioggia, questo è il titolo, oggi allerta arancione in Sicilia, calo delle temperature e neve al nord, la politica Meloni accelera 30 miliardi per l'energia, subito aiuti per 9 miliardi e mezzo, il resto in manovra risparmi nei ministeri, mentre le misure allo studio, all'attuale studio, pensioni da gennaio scatterà quota 41, reddito di cittadinanza invece a chi non può lavorare, queste come detto le misure al vaglio dell'attuale governo. Spazio anche alla ponte sullo stretto, legambiente contraria, dice basta con l'idea del ponte, Salvini invece replica è un'opera green in vista il tutto del vertice di martedì, quindi come dire voci contrapposta, ecco tra chi come sempre è favorevole in questo caso Matteo Salvini e chi altrettanto come sempre è contrario come legambiente. E poi ancora l'emergenza migranti, nave OMG ferma, ONG ferma in Rada Catania, soccorreremo chi ha bisogno, torna invece o meglio riapre Sacchitello, la stazione di servizio, un pieno di speranza, vedete a Sacchitello, Autogrill riapre con 16 assunzioni. La cronaca, corruzione a Palermo, mazzette in pacchi di caramelle, arrestato un funzionario regionale della protezione civile e un imprenditore, mentre il dramma della solitudine a Lentini, morto in casa da mesi, ma nessuno lo cerca, un sessantenne è stato ritrovato quasi mummificato. Ancora un siciliano onesto nel film I racconti della domenica di Giovanni Virgilio con Vassallo, dal 10 nelle sale cinematografiche, Catania fu a comuni etnei uniti per il rilancio e poi il caso democrazia partecipata, 29 comuni sono spreconi, Zafferana etnea il prefetto celebra l'unità nazionale, mentre a Taormina lavori sulla statale 114 e dunque avviato il senso unico alternato. Lasciamo il quotidiano la Sicilia, adesso andiamo a vedere cosa ci propone stamane in prima pagina il giornale di Sicilia, si apre con la cronaca, con la notizia di ieri, corruzione, mazzette come caramelle, così definivano le tangenti per gli appalti alla protezione civile e si sono indagini in corso anche su altri episodi, le intercettazioni sempre in merito a questo caso nelle chat messaggi di sollecito, vedete fatemi guadagnare o niente panettone. E ancora il Tribunale di Palermo, il dirigente Tozzo Prosciolto, la Regione gli dovrà pagare le spese legali, mentre verdetto del CGA non denunciò il racket del Pizzo escluso da incarichi per il Viminale. In taglio centrale il carobollette contro il carobollette 9 miliardi e mezzo, altri 21 sul piatto il prossimo anno, mentre per quanto riguarda i migranti una nave ONG in rada a Catania, piante dosi, dice, solo per assistenza. A Palermo droga alla calza e al borgo, otto condanne al clan Abate e a proposito di stupefacenti nel capologo siciliano e nello specifico la droga che circola tra i giovani, vedete ieri un corteo a Ballarò, salviamo i giovani dal crack rivolta contro gli spacciatori. Andiamo in taglio alto il calcio, oggi il Palermo di scena al Barbera, voglio sentire gli applausi al Barbera, dice Corini in vista della gara contro il Parma, parla invece Mattarella che dice resta inaccettabile l'invasione russa, dunque il pensiero del capo dello Stato sulla guerra in Ucraina. E ancora per la cardiochirurgia pediatrica si riparte al civico di Palermo intesa col Sandonato di Milano, reparto operativo entro sei mesi. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, adesso andiamo a vedere l'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica che torna su questo argomento molto importante, ovvero la droga che circola tra i giovanissimi a Palermo in piazza contro il crack, lo Stato qui non c'è, studenti, professori e associazioni hanno manifestato a Ballarò per il dilagare della droga tra i ragazzi nel corteo, gente di tutti i quartieri difficili della città. Parla l'arcivesco Volorefice che dice chi spaccia è mafioso. E poi una delle tante storie legate appunto a queste tristi vicende parla Giulia, prostituta a 19 anni per la dose, ti dici che è l'ultima volta ma non è così queste le parole o meglio la testimonianza in questo caso di Giulia. Ancora anche un sommelier alla guida dei sei siti, archeologi in rivolta, si parla in questo caso di regione, regione siciliana, mentre oggi al Barbera quindi il calcio e il Palermo, il rosa nero a caccia di punti contro il Parma, è certamente una partita molto molto importante. L'indagine ne abbiamo parlato a lungo ieri e anche stamane nei primi due quotidiani, mazzette e caramelle, protezione civile nella buvera e poi parla l'attore Fausto Russo Alesi, tra ragione di Stato e ragione umana il mio Cossiga tormentato per Moro e qui nella foto vedete appunto l'attore nei panni di Cossiga. Lasciamo anche Repubblica Palermo, adesso andiamo a vedere l'edizione nazionale del quotidiano La Repubblica, si parla di migranti, questo il titolo, navi ONG sfida al governo. Tre imbarcazioni verso Siracusa e Catania, piante dosi le blocca in rada, sbarcheremo donne e bimbi, gli altri andranno via, dice il ministro. Salvini, difendere i confini è un dovere, parte dei profughi a Parigi e Berlino, Meloni, sì Alnadef, 30 miliardi per il caro Energia. Parla Nordio che dice il DL anti-rave sarà perfezionato, riformerò il codice Mussolini. E poi l'Italia si schiera a favore ovviamente della pace, l'Italia vedete in piazza contro la guerra, le manifestazioni a Roma e Milano in favore dell'Ucraina. Lasciamo Repubblica, siamo sul Corriere della Sera, l'argomento di riferimento invece il caro Bollette, 30 miliardi di aiuti, 9,5 in arrivo subito, pensioni e fisco, risorse dal budget dei ministeri. Circa 23, ovviamente milioni si troveranno grazie al maggior deficit, legge rave parla piante dosi che dice sosterrò le modifiche. Occhio poi a Trump, vedete o meglio il ritorno di Trump è pronto a ricandidarsi e dice sicuro vinco ancora, queste le parole dell'ex presidente degli Stati Uniti. Poi la questione migranti, migranti in mare, l'Italia soccorsi solo a chi ne ha diritto, redistribuzione, Parigi apre. E poi l'ennesimo atto vandalico, lo definirei più che protesta, blitz degli ambientalisti, stavolta a Roma, zuppa di piselli su un Van Gogh imbrattato, il seminatore, il ministro San Giuliano parla giustamente di atto grave, ripeto più che una protesta, francamente ci sembra un atto vandalico. Siamo sul quotidiano la stampa, anche qui l'argomento di riferimento è il caro Bollette, i 30 miliardi pronti dal governo per far fronte a questa emergenza Bollette, via libera alla Nadef, Meloni sarà una manovra prudente, trivellazioni nell'Adriatico, in cambio di più gas subito. La Premier poi parla anche dei rave, il decreto può cambiare ma non siamo la Repubblica delle Banane, modifiche al PNRR, l'Unione Europea dialoga. E poi in taglio centrale, l'emergenza migranti, l'Italia salva solo i fragili, titola la stampa, mano tesa dalla Francia, accoglieremo una nave, l'ira del ministro Calderoli, nessuno va soccorso. Proseguiamo, lasciamo il quotidiano la stampa, questo invece è la prima pagina del quotidiano il giornale, si parla in questo caso di Giorgia Meloni o meglio vedete del bazooka di Giorgia, emergenza economia dal governo in arrivo 30 miliardi contro il caro Bollette, rapporto deficit PIL 2023 al 4,5% sì alle nuove trivelle, ma per ora non si parla di flat tax. E poi a proposito di migranti, la Norvegia ci lascia a tutti i migranti il soccorso all'Italia, la linea del governo a bordo, identificazione e richiesta di asilo, come vedete è braccio di ferro sulle ONG. Ampio spazio poi a Elon Musk che taglia le ali a Twitter con una mail, si lura ben 3.700 dipendenti. A chi si è salvato resti ma lavori sette giorni, insomma linea dura quella di Elon Musk, mentre per quanto riguarda la guerra ora Putin ordina di fucilare i soldati che si ritirano, arriva dunque questa minaccia da Mosca. Proseguiamo, proseguiamo, lasciamo il giornale, questo è il fatto quotidiano che apre vedete con un titolo assolutamente condivisibile, pace, scrive il fatto, noi ci siamo oggi in piazza a Roma per il negoziato fra Russia e Ucraina, per una svolta, associazioni, sindacati, politici, artisti, intellettuali di ogni colore per chiedere ai governi d'Europa di interrompere l'escalation militare, ovviamente condivisibile, assolutamente condivisibile. Cambiamo argomento, siamo sulla prima pagina del quotidiano Il Tempo, il governo al lavoro, la pacchia è finita, Meloni e il decreto anti-rave, non siamo più la repubblica delle banane, ora basta, dice la Premier, il Viminale spiega le misure, i diritti non vengono toccati, ma la sinistra dice ritirate il testo. Piante dosi sui migranti, da noi solo casi umanitari, Macron apre, la Norvegia invece no. In taglio centrale si parla di Roma e del sindaco di Roma, Gualtieri, che premia gli occupanti abusivi, a tutti, residenza, più gas e luce. E poi a proposito di luce e quindi di bollette, in questo caso per le bollette 30 miliardi in due anni, approvata la Nadef, deficit 2023 al 4,5%, i mercati apprezzano Giorgia Meloni. Lasciamo anche il tempo, siamo sul quotidiano la Nazione, 30 miliardi contro il caro energia, questo il titolo, il Governo mette sul piatto le risorse per tagliare le bollette, i primi 9 miliardi e mezzo dalla prossima settimana, gli altri con la manovra del 2023. Via libera a nuove trivelle e all'allargamento degli impianti esistenti, parla la Premier Giorgia Meloni, vogliamo essere più indipendenti per il gas. Si parla anche qui di Elon Musk, cattivissimo Musk, scrive La Nazione, il visionario imprenditore, il nuovo proprietario di Twitter, dopo aver silurato in blocco i top manager, ora licenziato 3.700 persone con una e-mail. Il quotidiano libero cambia invece argomento rispetto agli altri quotidiani, la sfida delle toghe rosse, andiamo contro il Governo, avviso al centro-destra. I magistrati di sinistra promettono battaglia, ci aspetta una lunga stagione di resistenza costituzionale e già si parla di nuove inchieste in arrivo. E poi i vandali, anzi gli eco-imbecilli li definisce in questo caso libero, Van Gogh lordato, ma in libertà anche questa, si chiede giustamente Fausto Carioti sulla prima pagina di Libero. Il caro bollette, 30 miliardi per le bollette, via libera alle trivellazioni, queste le decisioni dell'esecutivo. Ed ora andiamo a vedere lo sport come tutte le mattine, ovviamente è cominciata già la giornata di campionato, ieri con una prima sfida, oggi però scendono in campo alcune big, domani altri big match e allora la Gazzetta si sofferma intanto su Rafa Leao, o meglio sul futuro del giocatore portoghese. Leao, la firma che scotta il Milan e l'allarme per il rinnovo, scrive la Gazzetta. Manca l'accordo sulle cifre, il portoghese andrà in Qatar, quindi al Mondiale, senza il nuovo contratto. Il rischio è che l'effetto mondiale possa stravolgere il futuro. Ma ci concentriamo sulle gare di campionato, domani il derby d'Italia, Juventus-Inter. A noi, scrive la Gazzetta, Mangiukic e Roberto Carlos, vedi intervista, vedete, intervista a due ex di Inter e Juventus. Oggi invece il Napoli di scena Bergamo contro l'Atalanta, ma giocherà contro la Dea e non c'è il mago. Il mago, ovvero, è Kvarascheglian, vedete che si è infortunato e quindi non giocherà a Bergamo. Pesa il suo primato contro l'Atalanta, scrive, in questo caso, la Rosia, in vista di questo vero e proprio test per il Napoli di Spalletti. Il Corriere dello Sport apre proprio con il Napoli perché non c'è Kvarascheglia, ma c'è Osi, ovvero Osimen, scrive il quotidiano romano. Sabato chiave per Spalletti, se vince spedisce l'Atalanta a meno 8. Napoli, Kvarascheglia, a Bergamo guida l'assalto il nigeriano, ovvero Osimen. Il Milan invece ospita lo Spezia e vuole cancellare l'incubo Serra. Il riferimento è all'errore dello scorso anno proprio in Mila Spezia dell'arbitro Serra che costò la vittoria ai rossoneri. Si parla anche di Juve Inter, Max per il sorpasso, Inzaghi, Asso, Cialanoglu. Le mosse dunque in vista del big match di domani. Juve Inter da brividi, chance per Allegri, che ha una grande occasione di recuperare qualcosina, soprattutto in questo caso sui Nerazzurri. E appunto Juve sgomma sull'Inter. Vedete, parla Jean Alessi, l'ex pilota di Formula 1, l'ex asso della Ferrari, tifosissimo della Juve. Ripetiamo la partita col Paris Saint-Germain e vinciamo. Bel futuro con Miretti e Fagioli. Chiesa come un cane feroce liberato dopo mesi in gabbia. Io mi fido di Agnelli. Queste le parole di Jean Alessi, che dunque punta tutto sulla sua Juve. Crash test senza Kvara, scrive Tutto Sport per il Napoli in vista della gara contro l'Atalanta. Spalletti dice con loro è un autoscontro. E poi si parla anche di Milan Spezia con Kivior. Il Milan ti guarda. Il difensore polacco, vedete, è nel mirino proprio dei rossoneri che sfiderà questa sera a San Siro. Noi intanto ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampo di R. Abbiamo fatto il nostro consueto giro dei quotidiani, abbiamo visto tanti argomenti molto interessanti. Ora le nostre edizioni di Spazio Notizia per tenervi aggiornati tutto il giorno. Quindi restate con noi, a più tardi.